Ciao a tutti e benvenuti nel canale. In questo video vi spiegherò come completare l'ultima sfida di Jennifer alias Shulk, ossia usa un emote come Jennifer dopo aver distrutto Vasi. Dovete praticamente atterrare qua, all'ex, non so se si chiama ancora così, Campo Merluzzo, nei panni di Jennifer, quindi dovete aver completato la prima sfida, la seconda sfida, raggiunto il livello ovviamente 29 del pass e sbloccato Jennifer. Dopodiché scegliete Jennifer per la terza volta e atterrate qui a Campo Merluzzo, giù qui praticamente, credo che si chiami ancora Campo Merluzzo, non voglio dire una scemenza. Dovete atterrare qui e distruggere questo bel vasino e usare l'emote, cioè praticamente nulla di complicato insomma. Ecco qua il vasetto, lo distruggete e usate una emote, cioè non una qualsiasi ma quella di Shulk e il gioco è fatto.